Se hai mai avuto problemi con gli scarafaggi a casa, allora sai che sono un vero problema. Possono essere molto sgradevoli e difficili da respingere, e continuano a comparire in tutta la casa, e nascondersi in luoghi bui durante la notte. Nonostante siano disgustosi e spaventosi da vedere, possono anche portare numerose malattie pericolose. Ci sono numerosi prodotti offerti sul mercato per utilizzare, e sbarazzarsi di scarafaggi, ma sono costosi, pieni di sostanze chimiche dannose che mettono in pericolo la salute, e non forniscono risultati permanenti. Pertanto, stiamo rivelando un modo naturale e sicuro per eliminare definitivamente gli scarafaggi dalla tua casa. Borace e zucchero Il borace è sicuramente un must quando si tratta di eliminare gli scarafaggi, e tenere lontani gli insetti dalla tua casa. Come funziona? Il borace letteralmente disidrata l'esoscheletro di insetti, e danneggia il loro sistema digestivo. Alla fine, gli insetti muoiono e la tua casa sarà di nuovo priva di bacchi. Rendi la tua borax ancora più forte aggiungendo zucchero. Gli scarafaggi sono attratti dalla dolcezza dello zucchero che ti rende più facile intrappolarli. 1. Combina borace e zucchero in un rapporto 3 1. 2. Distribuisci la miscela accanto alle aree interessate e non dimenticarti di indossare i guanti, mentre lo fai. Il mattino dopo vedrai gli scarafaggi morti che giro onzolano, e tutto ciò che devi fare è ripulire il casino. Fai lo stesso dopo alcuni giorni. Ad alcuni piace usare il bicarbonato di sodio o l'acido borico invece del borace. Attenzione, evitare l'uso di questo se si hanno bambini piccoli o animali domestici. Fai lo stesso dopo alcuni giorni. Grazie a tutti.